L'almanacco della fede Di padre Livio Come vi dicevo, cari amici, l'ultimo messaggio della Regina della Pace è improntato soprattutto alla quaresima, ma è ricchissimo è anche nuovo in alcune sue espressioni noi abbiamo detto per esempio che era la prima volta che viene nominata in tanti anni la parola Calvario e anche questo era un segnale, a mio parere, di un messaggio implicito all'interno del messaggio stesso un'altra espressione nuova assolutamente è vestitevi di vesti penitenziali è un'espressione nuovissima quindi giustamente qualcuno mi ha scritto chiedendomi cosa sono queste vesti penitenziali, cari amici e anche qui c'è un messaggio implicito ci sono messaggi nei messaggi, in tutto il messaggio e vi ho spiegato ieri nella risposta a un email che mi è arrivato che la Madonna non può dirci quello che accadrà se non nell'imminenza cioè se non tre giorni prima per dire se no se potessero farebbe molto prima solo che non può perché si creerebbe un clima di paure un clima di interventi anche da autotica pubblica un clima di disordini immaginate voi insomma invece il tempo dei segreti dopo che c'è già stato i primi due a Međugorje poi il terzo sulla montagna poi ovviamente tre giorni sono tre giorni insomma quindi già c'è stato un collaudo per così dire della veridicità, delle rivelazioni ma adesso bisogna stare attenti anche lei sta molto attenta a non dare messaggi che il pubblico ma anche il pubblico nostro ma anche gli avversari potrebbero approfittarne per dire che la Madonna è venuta per farci paura difatti mi ricordo che Miriane diceva spesso la Madonna non è venuta per farci paura ma è venuta per salvarci allora cari amici quindi bisogna anche a mio parere stare molto attenti alle espressioni che la Madonna usa anche per soprattutto quelle per la prima volta e cerca di capire quello che vogliono indicare perché direttamente vogliono indicare una cosa molto prossima quindi una cosa molto chiara ma sotto ne indicano un'altra più lontana per esempio la parola Calvario è chiaro che la Madonna ci ha detto che Satana vuole sedurvi ma voi seguitelo verso il Calvario nella rinuncia e nel digiuno abbiamo visto cari amici che la parola Calvario potrebbe indicare certamente indica il cammino quaresimale nostro e della Chiesa oggi ma potrebbe di fatti molti hanno avuto subito il presentimento che la Madonna facesse illusione alla processione della Chiesa sul Calvario verso il Calvario che la terza parte del segreto di Fatima e sicuramente c'è questa allusione nel dirci attenzione che nel tempo dei segreti è anche il tempo della persecuzione alla Chiesa come ci ha detto con molta chiarezza San Giovanni Paolo II allora anche in questa espressione e a mio parere vestitevi di vesti penitenziali è un'espressione che indica ovviamente il cammino quaresimale che stiamo facendo ma sta a indicare qualcosa di più qualcosa di più lontano qualcosa che avverrà per quale motivo? Cos'erano le vesti penitenziali? Dunque voi sapete che l'ho già sperato tante volte che già dalla Chiesa Primitiva c'erano i gruppi penitenziali che avendo commesso peccati particolarmente gravi prima di essere riammessi all'ucarestia dovevano fare una sosta fuori dalla Chiesa per un tot settimana un tot mese un tot anni anche a seconda dei peccati che avevano commesso i più gravi sicuramente erano quelli di apostasia quelli che avevano bruciato l'incenso dell'imperatore la stato dell'imperatore poi c'erano nell'ordine i peccati ritenuti più gravi l'omicidio con l'aborto l'adulterio e ovviamente c'era tutta una una graduatoria di gravità di gravità dei peccati per quanto riguarda la materia perché sappiamo cari amici perché che la gravità del peccato vi è misurata non solo dalla materia ma anche dalla piena avvertenza e dal deliberato consenso si è ben chiaro questo e allora poi successivamente nella storia della chiesa e cosa è avvenuto è avvenuto che in caso di calamità sappiamo che la storia umana è ricca di calamità in caso di calamità diciamo pure la festa la peste la fame la guerra le malattie tutto quello che portava rapidamente alla morte veniva combattuto con la preghiera e con le processioni penitenziali che avevano delle vesti particolari di penitenza quindi cari amici questo riferimento della madonna alle vesti penitenziali sta a indicare sta a indicare che guardate che voi siete nel tempo delle prove avete avuto già la peste il virus adesso avete la guerra un domani potreste avere qualcosa di peggio perciò cosa aspettate a pentirvi dei vostri peccati perché alla fine il fine questo convertitevi e vestite delle vesti penitenziali di profonda preghiera personale è un richiamo alla gravità della situazione nella quale vi trovate e nella quale vi fate un carnevale eterno ogni giorno è carnevale la televisione fa sempre il carnevale è una che l'abbiamo in casa ci occupiamo tutto il giorno c'è un clima come appunto diceva i grandi scrittori sono in Kierkegaard della della nave che va a fondo ma il cuoco con l'altoparlante annuncia che qual è il cibo che è stato preparato per il mezzogiorno quindi cari amici questo è il richiamo della madonna cioè voi non vi accorgete in che tempo vivete ma lo sapete che siete in un tempo in cui potreste perire come avveniva allora cari amici io non dimentichiamo che su una popolazione supponiamo di 100 milioni di uomini in Europa nel medioevo la peste ne faceva morire un terzo le grandi calamità soprattutto dovuto alla peste nella storia diciamo dal tempo dei romani fino ai tempi moderni le calamità diciamo esterminavano le popolazioni in questo contesto c'erano le processioni penitenziali che erano estremamente serie allora io non sono qui a dire per carità vestitevi di sacco e non sprecate la cenere da mettere sul capo per carità a parte il fatto che un comportamento in tutto nel vestire anche e anche nell'atteggiarsi anche nel porgere anche nel discorsi anche nel comportamento sono tempi sono tempi gravi questi sono tempi seri sono tempi che scorre il sangue sono tempi di cadaveri pensate una scorsa di terremoto ne ha fatto più di 50.000 ora non dico che bisogna come dire mettere il muso su un muso vuol dire cari amici invece di alzare le spalle dire che sono le cose della natura che dobbiamo adattarci eccetera nella fede capire nella fede capire che come è sempre stato nell'insegnamento della chiesa che i mali che ci affliggono dipendono dalla nostra condizione di peccato cioè voglio dire voglio dire una cosa molto semplice cioè non è che Dio ci manda la guerra perché abbiamo peccato a parte il fatto che non ce la manda mai Dio la guerra ma certamente cari amici la condizione umana cioè la storia dell'umanità che è una storia spaventosa in un certo senso per la violenza che la domina per le atrocità che sono state perpetrate per i delitti che sono stati compiuti per le perversioni a cui l'uomo è arrivato c'è da dare a brividire cari amici nel vedere la storia umana raccontata dalla sacra scrittura fra l'altro che è una testimonianza divina del male del mondo ma non abbiamo bisogno abbiamo bisogno cioè anche anche gli studi di storia ci dicono gli orrori dell'umanità e questa è la verità ma da dove è venuto tutto questo male prodotto dalla natura e dal cuore dell'uomo dove è venuto è venuto dal peccato originale dal peccato originario al quale sono accumulati tutti i nostri peccati così che Dio dopo un po' di tempo al tempo di Noè decise di mandare il diluvio quindi ora non sono qui a terrorizzarmi sono qui a dirvi cioè che il pericolo più grave che abbiamo davanti è una guerra nucleare lo sanno tutti quella quale poteva finire la vita sulla terra può scoppiare certo che può scoppiare se non è scoppiata finora è per grazia di Dio anche perché la Madonna ci ha preservato e da progetti nefasti e da errori che si potevano compiere in tutto questo tempo come sanno benissimo quelli che si occupano di questo percorso particolare del dopoguerra in poi con la bomba nucleare fino ad oggi quante volte siamo arrivati quasi a mezzanotte cioè dal momento delle catombe ora quello che volevo dire la Madonna è questo voi siete la vostra vita è una carnevalata continua in mezzo a tragedie che sono quotidiane quanti milioni sono morti per il virus quanti milioni muoiono per la guerra quanti milioni muoiono per i terremoti quante centinaia di migliaia muoiono per le migrazioni non si finisce più è un quadro cari amici è un quadro su cui bisogna riflettere ma tutto questo cari amici è prodotto dalla condizione umana dopo il peccato originale che ha bisogno ha bisogno che noi povere creature figli di Eva gementes teflentes che gemiamo e piangiamo in questa valle di lacrime ci rivolgiamo a Dio ecco le vesti penitenziali ci rivolgiamo a Dio consapevoli di aver peccato come dice Davide dopo il delitto che ha compiuto ha ucciso un suo comandante dell'esercito l'ha fatto uccidere per prendere sua moglie peccato di omicidio di adulterio e accecato andava avanti come se niente fosse perché certi peccati accecano se non che Dio li ha mandato il profeta nata e gli ha fatto aprire gli occhi gli ha fatto discegliere fra tre calamità tremende poi Davide veramente si mise con le vesti penitenziali anche materialmente però soprattutto spiritualmente dicendo ho peccato Signore quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto quindi per così dire vestiamoci di queste vesti penitenziali interiori che sono il riconoscere il peccato e riconosce che noi abbiamo fatto il male riconoscere il male per quello che è lui aveva commesso un omicidio un adulterio e è un male gravissimo per il quale senza pentimento meritava la perdizione eterna ma lui si è pentito di questo male e l'ha riconosciuto quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto questa è la prima veste penitenziale riconoscere il peccato per quello che è mentre oggi molti peccati sono sorvolati o sono chiamati diritti addirittura peccati gravissimi o sono come niente snocciolati davanti al pubblico come se fossero delle conquiste insomma cari amici quello è come dire il carnevale infernale per il quale Dio ci 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 metterà a rigare i dritti poi secondo passo prima riconoscere il peccato secondo passo riconoscici i peccatori quindi cari amici battersi il petto sono un povero peccatore ricordate l'ave maria santa maria madre di Dio prega per noi peccatori riconoscere che siamo peccatori riconoscere il peccato riconoscere la nostra condizione esistenziale vi sto descrivendo le vesti penitenziali interiori terza veste penitenziali interiori chiedere perdono ho peccato sono un povero peccatore mi riconosco miserabile e poi chiedo perdono chiedo perdono è normale la ricchezza di perdono quando si commessa un peccato grave davanti a Dio che poi questo ovviamente questo atteggiamento di chiedere il perdono commessando il peccato si concretizza nella confessione ma adesso è prima di tutto un nostro itinerario interiore cioè riconoscere il peccato riconoscere i peccatori chiedere perdono e poi cambiare vita e cambiare vita cari amici non è facile non è facile per quello che Davide poi nel suo salmo invoca a Dio dicendo crea in me un Dio un cuore puro cioè aiutami a cambiare il cuore aiutami a far sì che dal mio cuore venga come dire venga purificato dal veleno dalle radici del peccato e questo processo cari amici queste queste vesti penitenziari interiore che vi ho detto cioè riconoscere il peccato riconoscere i peccatori chiedere perdono impegno proposito di cambiare vita questo processo interiore è necessario per arrivare alla salvezza se uno non si pente dei suoi peccati non si salva la Madonna ci dice attenzione con questo richiamo che straordinario insomma veramente la Madonna poi a volte ha dei richiami storici biblici che sono vanno al di là di qualsiasi cultura e di qualsiasi conoscenza possibile la Madonna ci ha riprodotto ci ha richiamato le processioni penitenziarie della storia della chiesa soprattutto quelle del medioevo ma fino al 1600 c'erano che si facevano in contesti di calamità la più la più le calamità più grandi erano la peste della guerra e anche la siccità e la fame nel contesto di calamità la Madonna ci ha detto voi siete in un contesto di calamità siete entrati in un contesto di calamità come è vero è a rischio il vostro futuro siete al bivio convertitevi e vestitevi delle vesti penitenziali ovviamente è un programma di quaresima ma è anche un prospetto in avanti per dirci cari amici che per cambiare il mondo sarà necessario una battaglia fino all'ultimo sangue come ha detto San Giovanni Parosecondo a Fulda la chiesa per cambiare ha bisogno di una persecuzione di un bagno di sangue cari amici quindi incominciamo col sudore con la fatica della conversione il sudore di sangue di Cristo nei Gezzemani per poter poi affrontare tutto quello che bisogna affrontare ma cari amici e perché non dobbiamo affrontarlo se Cristo l'ha affrontato e l'abbando ce l'ha detto e cioè guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario nella preghiera e il Degiuno l'almanacco della fede di Padre Livio di Padre Livio